Ciao a tutti, oggi vorrei parlarvi della pododermatite. Io ho estrapolato una piccola pillola dal videocorso dove il dottor Gino Conzo vi parlerà della pododermatite appunto, di come prevenirla, da che cosa è dovuta e come curarla. La pododermatite plantare, conosciuta anche col termine inglese di bumble foot, è una patologia piuttosto comune nell'allevamento dei turdidi, così come di altri uccelli ornamentali e anche nei falchi. La malattia è un classico esempio di patologia ad origine polifattoriale, nel senso che non si determina per l'intervento dell'agente patogeno in sé, che in genere è costituito da uno stafilococco, ma richiede delle cause predisponenti varie e molto importanti. Allora, prima di tutto c'è da considerare una carenza nutrizionale, soprattutto la carenza di vitamina A, ma anche comunque di alcuni aminoacidi e sali minerali. In queste condizioni l'epidermide plantare tende a non svilupparsi nel modo migliore, o perlomeno a mantenere il suo normale trofismo, per cui tende ad assottigliarsi. Se subentrano degli altri fattori predisponenti, come ad esempio un peso eccessivo del soggetto, quindi un animale obeso o sovrappeso, spesso associato anche alla presenza di posatoi dal calibro sempre uguale, in queste condizioni accade che tutto il peso del soggetto gravita sempre sullo stesso punto della superficie plantare. Quindi l'epidermide del piede, insomma il lato plantare del piede, già un pochino mal ridotta da una condizione alimentare insufficiente, quindi da una carenza alimentare, subisce anche questo insulto continuo del peso del soggetto sempre nello stesso punto. Quindi si verrà a creare in questo punto un'infiammazione e potranno penetrare dei germi presenti nell'ambiente, nel posatoio, eccetera. Nella gabbia, se in genere si tratta di soggetti che sono in gabbia. Questo è un altro fattore predisponente molto importante, nel senso che un animale che vive in voliera, comunque ha modo di svolgere un'attività funzionale, e quindi potersi muovere molto di più che in soggetto in una gabbia, soprattutto se di piccola dimensione, che tenderà quindi a stare maggiormente appoggiato sul posatoio e quindi a gravare sempre di più col proprio peso sullo stesso punto. In queste condizioni, ovviamente, i batteri potranno penetrare, determinare l'infezione all'interno del piede, e questa infezione man mano procederà coinvolgendo altre strutture, quindi dall'epidermide si andrà in profondità, fino nei casi gravi, a raggiungere anche il tessuto osseo. Quindi abbiamo vari gradi di sviluppo per questa patologia che possono essere trattati in modo differente. In genere, consideriamo, secondo varie bibliografie, da 5 a 7 diversi gradi di sviluppo della pototermatite. Nei primi due o tre stadi si può intervenire anche con opportuni medicamenti per bloccare questa infezione. Conviene sempre intervenire anche con un antibiotico per via generale, quindi non solo locale, proprio per prevenire infezioni più profonde. Nei successivi gradi di sviluppo della malattia, purtroppo è possibile intervenire solo chirurgicamente, aprendo il plontare del piede del volatile e procedendo ad asportare tutto il materiale necrotico che si è formato all'interno. Ovviamente poi ci sarà una degenza piuttosto impegnativa, piuttosto lunga. È una malattia che però si può prevenire, non dico semplicemente, ma comunque si può ridurre molto l'incidenza della malattia in allevamento. Come già si può immaginare, è necessaria una corretta alimentazione, offrire sufficientemente possibilità di moto all'animale, dove non è possibile, occorre mantenere una perfetta igiene della gabbia e fornire dei posatoi adeguati che non abbiano lo stesso calibro in tutti i punti, ma che abbiano un aspetto un pochino più simile a quelle di un ramo, di un albero, di un albero, una pianta naturale. Come ad esempio questo posatoio, creato appositamente per prevenire questa patologia. Come si può vedere, ci sono punti con diversi calibri e quindi il volatile potrà scegliere quale settore di volta in volta utilizzare in modo da non offrire al proprio piede sempre la stessa superficie d'appoggio che ovviamente determinerà un continuo insulto sempre sullo stesso punto del plantare. Come avete visto dal piccolo video estrapolato dal videocorso, il dottor Konzo ci ha spiegato da che cosa è dovuta e da cosa è provocata la pododermatite. Abbiamo visto che l'arma più importante che possiamo utilizzare per prevenire questa fastidiosa patologia è proprio la prevenzione. La prevenzione con delle diete adeguate utilizzando integratori specifici. In questo caso vi consiglio il Tour du Specialist Boost, integratore ad alti contenuti di vitamina A per evitare questa forma carenziale. L'utilizzo di posatoi anatomici che ci permettono appunto il posizionamento del palmo e della zampa sempre in punti diversi migliorando la flusso sanguigno anche le dita proprio dovuto a questi rigonfiamenti. È stato creato in plastica proprio per far sì che la pulizia dello stesso sia agevolata piuttosto che il legno, materiale sì, chiaramente naturale, ma altrettanto assorbente, quindi non igienico. e l'utilizzo del Tour du Smirta, pomata dermatologica che serve proprio per la prevenzione e in parte la cura di questa fastidiosa patologia. Consigliato anche per, e ne parleremo anche nel videocorso, per le cura dell'ipercheratosi perché ha un fortissimo potere ammolliente.